Innanzitutto dopo le recenti partite, qualificazioni europee, è un po' relativo perché sono passati più di sei mesi, per cui non fanno testo. Questa è un'altra partita con un'avversaria che sulla carta è pari a noi, occupa nella classifica del ranking tre posti avanti a noi, ma diciamo che siamo sullo stesso livello. È una squadra che giocherà molto sul fattore casalingo perché da loro sarà veramente una bolgia e questo secondo me pareggerà un po' sul vantaggio che potremmo avere giocando la seconda partita in casa. È una squadra grande fisicamente che a differenza delle altre che abbiamo incontrato ultimamente è meno veloce, gioca più di attacco posizionale. Sicuramente ha dei punti deboli proprio perché fa due cambi attacco e difesa e questo ci favorirà perché abbiamo normalmente un gioco veloce che impedisce i cambi agli avversari e stiamo preparando la partita su questo. Da un lato sicuramente fare a meno, purtroppo di Bortoli in qualche modo negativamente ci siamo abituati perché non è la sua prima assenza purtroppo e questo ci dispiace molto. Faremo a meno però sia di Bulsamini che di Tapirani che nella fase difensiva oltre che in attacco ma soprattutto in quella di difesa sono due elementi importanti. Di contro però la ampiezza di organico, di scelta è stata sempre un tuo elemento fondante di questa nazionale. Come e se verrà ridisegnata la nazionale per queste due partite? Sicuramente sì e come hai detto noi siamo abituati a fare delle grandi rotazioni per cui secondo me queste assenze non ci svantaggeranno in attacco dove abbiamo solo una piccola problematica che non manca solo Bortoli ma anche Max Prantner. Questo significa che molto probabilmente giocheremo ancora senza Mancino però diciamo che le rotazioni potranno compensare il gioco in attacco. La cosa da ridisegnare è in difesa dove ci sono proprio tre difensori per differenti motivi speciali. Bulsamini, io l'ho detto sempre a tutti anche all'estero, secondo me è uno dei migliori difensori d'Europa. È stato sempre al centro della nostra difesa, il capo della difesa e io dico sempre che se non fosse stato un italiano giocherebbe nel Barcellona o nel Kiel guardando le sue doti fisiche, agonistiche e competenza difensiva. Bortoli ci dà quella variabilità invece di intercetto, di fare una 5-1, di fare delle difenze di anticipo e da Piran era il classico jolly che attappava tutti i buchi ma difensivamente con alta qualità. Quindi sotto gli altri sicuramente cambieremo qualcosa, dovremmo anche lavorare molto su una nuova difesa proprio perché abbiamo meno terzi difensori nel reparto centrale. Poi c'è l'aspetto psicologico, è vero sono passati sei mesi, nel contempo non è stata poi decisiva quella sconfitta contro la Polonia ma al tempo stesso ci ha dimostrato da un lato che possiamo giocare ancora una volta, ci ha dimostrato che da un lato possiamo giocare con queste squadre, d'altra parte abbiamo perso così negli ultimi minuti, brucia ancora, inutile negarlo. Quindi da un lato psicologico che Italia ti aspetti di vedere? Non è stata solo con la Polonia in realtà una partita alla Bari con chi c'è superiore, così come è stato con la Bielorussia, così come con la Slovenia, per cui questa squadra ha dimostrato che quando si tratta di giocare con avversari di livello superiore ha sempre dato il massimo e proprio in questo momento noi dovremmo trovare quel clima, quelle emozioni che dovremmo avere anche con una squadra del nostro pari livello, perché questo ci hanno fatto fare la differenza in quel frangente. Per il resto, come dicevo prima, sono passati sei mesi e è anche un'altra situazione, per cui è difficile rapportarci a quella partita là. Io dico sempre che l'Italia ha bisogno di tempo per crescere, di lavorare e purtroppo essendo sempre fuori dai mondiali e dagli europei ci viene a mancare tutta quella fase preparatoria che tutte le altre squadre hanno. Per ricordare appunto la Polonia, noi abbiamo giocato nel 2023 contro la Polonia come terza partita dell'anno, loro erano alla diciassettesima, per cui questo è quello che stiamo pagando secondo me, però oggi ancora davanti diverso tempo possiamo rimediare. Nazionale che sarà al completo dopo gli impegni dei giocatori che giocano nei campionati esteri, nel frattempo però non c'è soltanto la senior, ci sono anche 12 ragazzi aggregati per la categoria under 20, che insomma ruoteranno nelle nazionali giovanili. Qual è l'obiettivo di questo lavoro parallelo rispetto alla senior? Abbiamo cercato di radunare quelli che giocano in Italia, vista la sosta di campionato, erano pochi, diciamo così, per cui per poter lavorare anche su di loro, quindi su alcuni aspetti specifici, abbiamo convocato anche alcuni 2004-2005. Non è la vera nazionale perché ho voluto provare e vedere la crescita di chi non è stato al campus, per cui ho voluto dare una chance a loro che erano stati esclusi dal campus, ci sono anche alcuni del campus che conosco bene, per cui con loro non è un problema di sistema di gioco, è solo ritrovarli e in questo momento lavorare insieme, ma i veri raduni della 2004-2005 partiranno più avanti. Grazie a tutti!